La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo è senza alcuna ombra di dubbio uno dei film italiani più belli in assoluto mai girati nella storia del cinema mondiale e appunto ancora di più di quello italiano. Vi racconto prima la trama e poi passiamo appunto a un commento e un commento magari legato anche soprattutto alla storia. Il film si concentra sulla figura di Alila Point, un reale e leggendario rivoluzionario che combatte proprio durante la battaglia di Algeri. Il film appunto inizia con lui che è in questo cunicolo che sta di fatto aspettando la morte proprio perché il generale francese Mathieu sta piazzando una bomba e di fatto lo sta per far esplodere e ripercorre tutta la sua vita a partire di fatto da quando dall'essere un mendicante, un puttaniere, uno che spacciava eccetera passerà invece a diventare una delle guide addirittura del fronte di liberazione nazionale che per essere chiari è l'organizzazione politica che poi porterà definitivamente alla liberazione dell'Algeria. Il film si concentra appunto su quei fatti ripercorrendoli dal 1954 fino al 1957, anno dove appunto Ali morirà ed è molto interessante perché fa vedere tutti i passaggi della rivolta da quando il fronte di liberazione nazionale inizia effettivamente ad essere sempre più forte nella casba quindi con una radicale pulizia di tutti i membri scomodi quindi non so appunto non prostitute però i papponi, i spacciatori, i ladri, i criminali vengono tutti cacciati o fatti fuori e si assiste appunto a una non radicalizzazione perché sbagliato ma una militarizzazione vera e propria della casba sia da parte degli algerini sia da parte dei francesi che dopo tutta una serie di attentati iniziano ad avere sempre più paura e mobiliteranno sempre più forza fino addirittura ad attivare l'esercito. Il film poi di fatto ripercorre tutti quegli eventi fino come vi dicevo alla morte di Alila Puent e poi c'è un piccolo pezzo, un piccolo stacco e ci porterà fino al 1960 quando la rivolta da sola ripartirà e per la prima volta anche con delle bandiere algerine e fino al 1962, anno definitiva liberazione dell'Algeria. Riguardo a questo film farei soprattutto un commento relativo ai personaggi che secondo me sono stati resi benissimo. Il film come vi dicevo appunto è molto godibile, sono due ore che passano molto rapidamente e sono addirittura una pellicola in bianco e nero quindi ancora più complicato ma la cosa che mi è piaciuta più di tutti in assoluto è stata l'umanizzazione dei personaggi un qualcosa che noi abbiamo visto ad esempio di recente più che altro con Game of Thrones per essere chiari ovvero un tentare di non dare una ragione ad ognuno di questi personaggi perché così suona male ma mostrare che non sono dei pazzi, non c'è il cattivo e non c'è il buono tutte queste cose all'interno di un conflitto si mischiano è l'esempio del generale Mathieu il generale Mathieu è un uomo come gli altri, un militare che è stato pagato per andare in Algeria e far vincere la Francia per essere chiari e lui non lo nega e anzi ne va fiero di questo però appunto lui critica quando ad esempio gli dicono non so appunto fascista lui usa dei metodi fascisti, lui usa la tortura, lui interroga caso, prende i rastrellamenti fa tutte cose fasciste però lui ricorda una cosa molto particolare ovvero che nel momento in cui c'era la seconda guerra mondiale lui ha combattuto con la Francia, lui ha combattuto con i rivoltosi lui ha combattuto contro i nazisti che è una cosa strana però è la verità e in più comunque si vede che è un militare di professione quindi che è pagato per quello proprio per l'atteggiamento onestamente molto rispettoso che è sempre nei confronti di coloro che acciuffa naturalmente non è così con tutti però con la maggior parte e almeno con quelli che valgono sì e in più naturalmente così come lui viene mostrato anche in un lato più umano più accettabile anche quasi lo stesso è per Alilapuente Alilapuente è un criminale Alilapuente è un delinquente che se non si fosse unito alla rivoluzione avrebbero messo due volte in carcere al solito un po' come i terroristi di adesso quasi che non ha niente da perdere almeno diciamo questa è una causa positiva però detto ciò lui non si fa problemi a uccidere a mettere bombe, a uccidere innocenti eccetera proprio perché il suo obiettivo non è tanto appunto il rispettare la legge lui ormai quello l'ha già bypassato lui il suo obiettivo è vincere portare l'Algeria a essere libera e per farlo non ha paura di utilizzare alcun mezzo arriviamo un po' con delle chicche perché questo secondo me era succo adesso arriviamo anche con la parte storica ma le chicche sono colonna sonora di Ennio Morricone e la presenza di Yasef Saedi che interpreta uno di fatto il vero capoccia di Ali ed è una cosa molto particolare perché Yasef Saedi ho scoperto proprio di recente è stato un rivoluzionario algerino che ha combattuto durante la battaglia di Algeri tra l'altro con un ruolo esattamente molto simile a quello che è interpretato nel film questa veramente bellissima non lo sapevo l'ho scoperto solo dopo quindi meraviglioso detto ciò la battaglia di Algeri io penso che sia un film che dovrebbe andare bisognerebbe vedere assolutamente per svariati motivi ma i principali sono questi la portata che la rivoluzione algerina ha avuto in tutto il ventesimo secolo che è determinante ci sono personaggi come Che Guevara che si sono ispirati a questo Arafat Malcolm X una marea e proprio in questa rivoluzione nasce di fatto anche il concetto di decolonizzazione mutuato da Fanon che infatti è un combattente per l'Algeria anche se parte come medico francese ma è un combattente per l'Algeria durante la guerra durante la guerra quindi veramente importante in più perché è veramente un orgoglio italiano è un film bellissimo un film che ancora oggi ripeto nel 2020 scorre meravigliosamente è affascinante non pesa non riempie e io sono uno di quelli che per essere chiaro non guardo tanti film in realtà eppure questo è una perla quindi ve lo consiglio fortissimamente e se volete anche un approfondimento più storico lo faremo sicuramente non so esattamente ancora quando perché ci sarebbe troppo da dire non voglio dilungarmi troppo noi ci vediamo seguite i video sul canale sugli articoli sul sito e i podcast su Spotify e le principali piattaforme alla prossima grazie a tutti